Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi Serie A molto importante per la zona Champions, per la zona Europa League, Conference League, ma soprattutto anche per la zona salvezza. Ma io mi voglio ricollegare al video che ho fatto ieri sera perché sono ritornato a casa e ho letto tutti i siti web, anche alcuni post video dei miei colleghi youtuber che parlavano di un'eventuale dimissione, allontanamento, altra scelta di squadra di Luciano Spalletti per il Napoli. E questa mattina ragazzi c'è il Toto Allenatori, una cosa incredibile, ma intanto ti invito a supportare questo video con un bel like, un bel mi piace, ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, ad attivare la campanellina e a seguirmi su Instagram, link in descrizione. Allora ragazzi, avete qualche altro nome voi da aggiungere? Magari scrivetelo qua sotto perché io qua ho una lista incredibile per quanto riguarda i sostituti di Luciano Spalletti. Non hanno fatto altro che parlare in questi due giorni di allenatori a destra e a sinistra. Ma io dico una cosa, questi ancora devono finire il campionato, ancora devono festeggiare il 4 giugno e per una piccola diatriba che hanno avuto magari dal punto di vista contrattuale, non lo so, per i bonus, per qualsivoglia motivo dell'Aurentis e Spalletti. Magari hanno gestito male la cosa, per carità, chi può dirlo? Però ragazzi, subito i falchi, subito i giornalai come chiama qualcuno di voi, hanno cominciato a fare il festival, il festival dell'allenatore, del nuovo allenatore del Napoli. Una roba incredibile ragazzi, mi lascia proprio stupefatto e quindi volevo condividere con voi questa ulteriore tranche di video che ho iniziato ieri sera. Ma io ieri sera sinceramente ero sbalordito da questa notizia perché non me l'aspettavo proprio che Spalletti potesse anche avere soltanto l'idea di andare via da Napoli che è trattato ultimamente come un re. Ma anche lui tratta bene la squadra, gli ha dato un'impronta di gioco, può soltanto che migliorare questo Napoli anche dal punto di vista della Champions League, potrà fare molto di meglio. Il campionato ovviamente è stato stradominato, più di questo magari il prossimo anno non potrà fare perché ovviamente non sempre i campionati si vincono così in maniera assoluta. Quest'anno il Napoli ha sulclassato tutte le squadre e ha dato un gioco, come ho detto nei miei video precedenti, straordinario anche per chi non è tifoso del Napoli, ha potuto ammirare questa squadra. Ma oggi ragazzi, toto allenatori, toto allenatori, ho qui tutta la lista, ce l'ho proprio di fronte, ogni sito web, ogni giornale insomma testata giornalistica ha il suo allenatore, ha il suo allenatore. Se volete mettete anche il vostro. Ragazzi scusatemi se faccio un po' di ironia, però per me sinceramente è assurda questa situazione perché ovviamente si è stato soltanto uno scambio di pareri che da quello che ho capito De Laurentiis ha detto io non tarpo leale a nessuno. Perché magari Spalletti, non lo so, ha ricevuto qualche offerta, qualche, perché è ovvio è un allenatore, un grande allenatore, magari può essere sotto l'occhio di qualche club internazionale. Però stiamo sempre parlando di ipotesi, ipotesi ragazzi, invece qui giocano proprio al toto allenatori, la mia copertina è riferita a questo. Allora, cominciamo. Nuovo allenatore del Napoli, spunta un profilo internazionale e sapete chi è? Sapete chi è? Nagelsmann, addirittura il grande Nagelsmann, grande poi, voglio dire. Non è che sia tutto questo allenatore, insomma, alle prime esperienze, però ovviamente potrebbe essere un profilo ideale, ma ovviamente Spalletti è Spalletti secondo me. Poi, ancora, il buon Tiago Motta, questo è un altro sito, ragazzi, Tiago Motta del Bologna, va bene Tiago Motta del Bologna. Poi un altro sito ancora, cioè poi si mettessero d'accordo perché, cioè, uno dice una cosa, uno dice un'altra, è una roba assurda. De Zerbi, De Zerbi, grande allenatore che si è messo in auge con il Brighton e quindi è molto appetibile da tantissime squadre e quindi, secondo loro, anche dal Napoli. Poi, udite udite, questo è un grande nome, ragazzi, è un grande nome, suspense. Lorenz, Antonio Conte, eccolo, Napoli Spalletti, è calato il gelo. Io leggo proprio l'articolo, eh, e spunta il nome di Conte, mamma mia. Vediamo un po' se ce ne sta un altro, vediamo se ce ne sta, ah, qui addirittura dicono è giunto, lì già se n'è andato. Poi, 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 ah, abbiamo anche, abbiamo anche Sottil, addirittura anche Sottil, per carità, eh. Buon allenatore anche lui, però, insomma, no? Diciamo che qui si stanno sbizzarrendo tutti, magari oggi la lista, fino a questa sera, si arricchirà con qualche altro allenatore, vedremo un po'. Magari li vengono allenati tutti in Napoli, tutti quanti insieme ad allenare in Napoli. Ragazzi, scusatemi se sto facendo ironia, perdono, vi chiedo perdono, però per me questa situazione è surreale, perché Spalletti, per me, rimarrà a Napoli. Ricordatevi queste parole che vi sto dicendo adesso, Spalletti si metterà d'accordo con De Laurentiis, magari per qualche cavillo contrattuale che ci può stare, e rimarrà a Napoli. Ecco, a qui che magari domani dai dimissioni addirittura. Però, ragazzi, ancora deve finire il campionato. Oggi c'è Napoli-Inter, una partita di cartello che, secondo me, il Napoli non vorrà perdere assolutamente per il prestigio anche europeo. Ovviamente l'Inter sta attraversando un periodo di forma non indifferente, quindi la scusa del nuovo allenatore, secondo me, non reggerà, perché Spalletti è un professionista, uno che ha sani principi e De Laurentiis magari è rimasto, diciamo, disturbato da qualche richiesta che a noi sicuramente non diranno, a noi sportivi, eh. Voi, invece, magari tifosi napoletani, qualcosina in più saprete, perché siete proprio del posto, e magari scrivetemelo sotto nei commenti. Magari, penso io, avrà fatto qualche richiesta, qualche... anche di giocatori. Qualcosina che magari ha dato fastidio a De Laurentiis, perché sappiamo che è un grande presidente, però ha un caratterino un po' particolare De Laurentiis, è un po' puzzone, lasciatemi il termine. Però è ovvio, perché grandi, grandi, un po' per malusetto, no? Ma anche Spalletti, insomma. Quindi mettendoli tutte e due di contro, magari davanti a un tavolo, uno dirà una cosa, uno dirà un'altra, e magari è nato qualche equivoco. Però da qui a dire, a fare il toto allenatori, adesso non lo so, ragazzi, come ripeto, magari domani addirittura spunterà la firma dell'allenatore, però secondo me è assurdo, è assurdo. Qualcuno avrà sbagliato sicuramente, o da una parte o dall'altra, se veramente si possa configurare, abberare questo scenario scandaloso, secondo me. Lasciatemi il termine, scandaloso, perché era un binomio perfetto in Napoli e Spalletti. E potevano soltanto che migliorare tutti quanti insieme, in Napoli con il gioco, con la crescita di alcuni giovani calciatori. Spalletti non ha mai vinto uno scudetto e ha ringraziato il Napoli e i tifosi del Napoli, che soltanto insieme a loro è riuscito ad ottenere questo traguardo prestigioso in Italia, perché non aveva mai vinto un campionato italiano, ce l'ha andato vicino con la Roma, ma non ci è riuscito. Invece con Napoli non l'ha vinto, l'ha stravinto. E quindi anche lui, Spalletti, deve qualcosa alla città, al popolo, alla società, ai giocatori, perché ovviamente lui ha dato, ma ha anche ricevuto. E questo penso che anche come persona lo possa riconoscere. Perciò è uno scenario, secondo me, poco credibile quello che si è prefigurato questi giorni tra De Laurentiis e Spalletti. Comunque vedremo i nuovi sviluppi. Se voi sapete qualcosa in più di me, che magari mi seguono molti follower, iscritti, tifosi del Napoli, e ovviamente ne sanno qualcosina in più, scrivetelo nei commenti. Io tanto i commenti li leggo tutti, ragazzi, a volte non rispondo, metto un cuoricino per farvi capire che l'ho letto, però li leggo tutti e magari potete darmi delucidazioni a me. Io sono molto interessato, anche perché sapete che in famiglia ho una persona che ammira e simpatizzante la squadra di De Laurentiis e Spalletti. Lascia un like a questo video per supportarlo, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina e seguimi su Instagram, link in descrizione. Ciao! E io vi dico forza Roma però, sappiate tutti che io sono un tifoso giallorosso, ma lo sanno quasi tutti. Lo sapete voi tutti! Però ovviamente sono curioso di sapere anche le notizie delle altre squadre. E De Laurentiis è un binomio che sta avendo riscontro sul web ed è diventato virale. Ciao!